Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, ha toccato anche la nostra città, la maxi operazione che ha portato al sequestro di oltre 400 kg di droga e beni e ancora con tanti per oltre 2 milioni di euro. 19 le misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. A capo della banda, secondo le fiamme gialle, una famiglia albanese in grado di movimentare un numero impressionante di chili di marijuana, cocaina, hashish ed eroina, una complessa indagine della Guardia di Finanza di Padova. Alcuni arresti appunto sarebbero stati portati a termine anche nell'aretino. E torniamo a parlare anche dell'allarme furti. Questa volta appunto le incursioni nelle abitazioni hanno toccato il centro storico di Arezzo. C'è stato un furto lì, un furto a San Domenico, un altro furto, l'hanno preso soldi e l'oro a questa signora, sicché tre furti. Riesce l'allarme furti nel cuore del centro storico aretino, dove si sono verificati alcuni colpi in pieno giorno in una zona ben precisa, quella nei pressi di piazza San Domenico. È anche una cosa che ci fa tanto piacere, però cerchiamo di stare attenti il più possibile. I furti negli ultimi giorni si sono consumati in via San Domenico, in pioggia del Murello e in via delle Fosse, mentre in via 20 Settembre i malviventi hanno provato ad entrare ma non ce l'hanno fatta. In pioggia del Murello, un appartamento, sono entrati da Portone normale, io come hanno fatto non ci sa. Sono entrati e hanno preso l'oro e i soldi, ma parecchi soldi e parecchi oro. Qui da me sono venuti, hanno preso un gelato perché ha visto la malparata, sono andati via Cavour, che è un impresario, che ha la casa lì. E tiene Portone aperto perché hanno lavori dentro, sinché l'operaio vanno, escono e sinché hanno levato la serratura, non chiude e sono entrati dentro. In azione negli orari più disparati, anche nel pomeriggio, come in via San Domenico, dove i proprietari al loro rientro hanno trovato i segni del passaggio dei ladri. Sono entrati perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione e qualcuno è salito e è successo qualcosa. A destare sospetto due giovani donne, dettaglio già segnalato alla Polizia di Stato che sta portando avanti le indagini. Siamo preoccupati, se mettono dentro qui mi abbandonano ogni cosa. Un incidente stradale oggi intorno alle 13 in via Legiotto ad Arezzo. Si sono scontrate due auto, un utilitario e un SUV che a seguito dell'impatto ha terminato la propria corsa contro una fila di alberi a bordo strada. Parliamo ancora di meteo perché siamo passati dalla cosiddetta estate di San Martino ad una nuova perturbazione. Un po' in ritardo appunto, ma è arrivata l'estate di San Martino. Ad Arezzo ieri le temperature hanno addirittura oltrepassato i 20 gradi. Anche il mese di novembre ha fatto registrare temperature decisamente sopra la media. Per le prossime ore ancora maltempo, una rapida perturbazione transiterà sulla Toscana nel corso della notte e ancora per tutta la giornata di venerdì 17. Saranno interessate le zone interne orientali, compresa la provincia di Arezzo. Il codice emesso dalla sala di protezione civile è quello giallo. E torniamo a parlare anche dell'alluvione che ha colpito parte della Toscana. Non si ferma la solidarietà da parte del territorio aretino. Questa volta sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Bibiena a portare il loro aiuto ai colleghi di Campi Bisenzio, alle zone alluvionate, grazie ad un percorso concordato con il comandante Enrico Michelini e la stessa amministrazione comunale. Dal giorno dell'alluvione gli agenti di Bibiena sono stati organizzati in squadre che nel corso delle settimane si sono recate a turno nelle zone appunto bisognose. Viabilità, chiusura di strade, controllo attivo del territorio, ordinanze ma anche sostegno alla popolazione colpita appunto da questa tragedia. Restiamo a parlare del territorio di Bibiena perché lo scorso sabato i genitori di Gabriele Lusini, Catiuscia e Fabio hanno donato in nome appunto del figlio scomparso prematuramente e tragicamente lungo le sponde del fiume Archiano, un defibrillatore. Il servizio. Un defibrillatore lungo la ciclopista dell'Archiano, a poca distanza da dove Gabriele Lusini perse la vita, folgorato dai cavi della corrente elettrica agganciati inavvertitamente con l'amo della sua canna in carbonio estendibile. Era il 12 giugno scorso, l'indomani il giovane avrebbe compiuto 21 anni. A donarlo sono stati i genitori del ragazzo, Catiuscia e Fabio Lusini. Ancora un gesto di altruismo, solidarietà e speranza ha commentato il sindaco di Bibiena, Filippo Vagnoli. La scomparsa di Gabriele ha generato un grande vuoto, i suoi genitori però ci stanno insegnando molto in questo momento grazie a questa e altre iniziative che hanno intrapreso. Questo defibrillatore va a arricchire il progetto Il Cuore di Bibiena per rendere più sicuro il nostro territorio. Lo strumento è stato installato in prossimità di Via dell'Orto a Soci a poca distanza dal luogo della tragedia. La ciclopista dell'Archiano è molto frequentata in ogni stagione, per questo la presenza del dispositivo assume una grande importanza, conclude il primo cittadino. Parliamo di sicurezza per tutti. Scuola, sanità, trasporti sono tanti i settori dove domani la popolazione potrebbe subire degli importanti disagi per quella che si annuncia una massiccia adesione allo sciopero generale indetto da CGL e UIL. La partecipazione appunto sarà importante secondo i numeri diffusi dai sindacati. Sono intanto già oltre 600 i lavoratori aretini che hanno già aderito all'appello di CGL e UIL per partecipare alla manifestazione che si terrà domani proprio a Firenze. Ottore di sciopero indette dai sindacati per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare la legge di bilancio tra i temi, anche quello dei giovani e delle pensioni. Come dicevamo, lo sciopero è annunciato appunto nei servizi pubblici, c'è anche una nota di Trenitalia, ci potrebbero essere dei disservizi anche per le frecce rosse, così come nel settore sanitario, annuncia la ASL Toscana Sud-Est. E dal punto di vista invece della scuola sono arrivate proprio oggi le mail ai genitori, con cui si dice appunto di assicurarsi che appunto la prima ora di lezione sia coperta, altrimenti insomma si torna tutti a casa. Ancora a CGL, questa volta però parliamo di case popolari, appunto insieme al Sunia è stata lanciata una petizione popolare per il diritto all'abitare. La legge finanziaria non dedica alcuna attenzione all'emergenza casa. È il Sunia di Arezzo a lanciare l'allarme dopo aver chiesto ai gruppi consigliari del Comune e alla Commissione Provinciale per il Disagio Abitativo di considerare la casa una vera e propria emergenza e quindi una priorità amministrativa. Nessuno ha risposto, nonostante lo stesso presidente di Arezzo Casa avesse segnalato che senza programmi e finanziamenti adeguati, entro cinque anni di case popolari non si parlerà più, ha dichiarato il sindacato degli inquilini. Gli sfratti continua stanno aumentando e presto i comuni che sono proprietari di questi alloggi vedranno crollare il loro patrimonio. passa a dare un'occhiata per verificare che le case popolari denotano umidità, pericolosità e lavori non conclusi. Il Sunia nazionale, con il sostegno della CGL, ha lanciato anche la petizione popolare per il diritto all'abitare, con la quale si chiede innanzitutto il rifinanziamento dei fondi per il sostegno affitto e morosità incolpevole, poi un piano con investimenti certi per costruzione e riatto delle case popolari, una legge quadro degli enti gestori che ne migliori l'efficienza, un programma di riqualificazione urbanistica e sociale delle periferie e una regolamentazione del mercato degli affitti brevi. Nelle sedi della CGL e negli uffici del Sunia è possibile aderire all'iniziativa. Adesso entriamo nel tema della città del Natale, in particolar modo del villaggio tirorese, però facciamo un piccolo passo indietro perché, come sappiamo, proprio in vista, questa ovviamente è una nostra ipotesi, ma insomma è facilmente plausibile, proprio della inaugurazione della città del Natale, domani venerdì 17 novembre, così come annunciato anche dai nostri microfoni, dall'assessore Sacchetti, l'incrocio di via Fiorentina, che come sappiamo in questo momento è interdetto, almeno in parte e per alcune direzioni al traffico, dovrebbe riaprire. Quindi domani è davvero la giornata clou per tornare, ecco, a percorrere appunto da via Fiorentina poi tutta la zona di via Marco Perennio, proprio appunto in previsione di questa importante inaugurazione. Come dicevamo, sabato 18 novembre al via il villaggio tirolese più grande d'Italia. Già alle 10 del mattino le 32 casette provenienti dal Tirolo accoglieranno tutti i turisti in arrivo da tutto lo stivale. Questa è l'edizione che si annuncia la più lunga di sempre, perché appunto inizia proprio il 18 di novembre e poi terminerà il primo di gennaio, compresa la giornata di Capodanno. Adesso voltiamo pagina e parliamo invece del 17 novembre, che è la giornata mondiale per la eliminazione del carcinoma alla cervice uterina. La regione ha previsto un open day proprio per le vaccinazioni. Il 17 novembre è la giornata mondiale per l'eliminazione del carcinoma della cervice uterina, un appuntamento per sensibilizzare la popolazione sulla necessità della prevenzione e l'importanza di vaccinarsi contro il papillomavirus, responsabile di infezioni che provocano lesioni che possono trasformarsi in forme tumorali al collo dell'utero. Il tumore della cervice uterina rappresenta il quarto tumore di tutti i tumori femminili. Ogni anno ci sono circa 3.000 nuove diagnosi e circa 50.000 donne convivono ogni anno con questa malattia. È un tumore che purtroppo possiamo guarire soltanto se diagnosticato in una fase iniziale, quando la chirurgia è integrata a trattamenti adiuvanti come la chemioterapia e la radioterapia, riescono a eradicare la malattia. Ad oggi però le diagnosi nella fase avanzata o metastatica sono ancora troppe e in questa fase gli obiettivi dei nostri trattamenti purtroppo non sono più la guarigione ma sono il ritardare la progressione della malattia e il controllo della sintomatologia che purtroppo in molti casi va ad inficiare la qualità di vita delle nostre pazienti. Ecco perché dobbiamo giocare in anticipo con la prevenzione. La regione toscana promuove un open day di vaccinazione contro il papillomavirus il 24 e il 25 novembre prossimi a cui aderirà fattivamente anche l'Asla Toscana Sud-Est. La vaccinazione contro il papillomavirus protegge dei 9 serotipi più pericolosi del virus, è una vaccinazione sicura ed efficace e può dare dei lievi effetti collaterali. La vaccinazione viene offerta attivamente con lettera d'invito a tutti i ragazzi e dalle ragazze nel dodicesimo anno di età. È inoltre gratuita per tutti i ragazzi fino a 18 anni e per le donne fino a 26 anni. Viene inoltre offerta gratuitamente ad alcune categorie di persone considerate a rischio, ad esempio alle donne operate per lesioni correlate al papillomavirus. Anche ad Arezzo monumenti illuminati per la giornata mondiale della prematurità, per la lotta contro il cancro al polmone e per la sindrome da delezione del cromosoma 22. Si comincia domani con l'illuminazione di viola del monumento a Guido Monaco e si continua nella giornata di sabato 18, giorno in cui il cavallo installato al centro della rotatoria di via Tarlati verrà illuminato di bianco mercoledì, poi 22 novembre, verrà illuminata invece di rosso la statua appunto di Guido Monaco. L'Oklahoma University ha lezione dalla fondazione Mona Lisa Ollus nel charity shop appunto organizzato proprio dalla fondazione. Vediamo. Secondo noi l'innesto giustamente di culture diverse porta veramente un valore aggiunto molto importante per la fondazione, per Arezzo e per tutti i meravigliosi volontari che sono con noi. L'intento è proprio quello, cioè introdurre idee nuove, farsi contaminare da quello che già succede nel mondo, quindi condividere quelle che sono le realtà più importanti sia locali di Arezzo ma anche per quanto riguarda appunto l'Oklahoma, da dove vengono i nostri studenti, farle contaminare tra di loro di modo che si possano creare dei progetti importantissimi. L'Oklahoma University ha lezione dalla fondazione Mona Lisa Ollus. L'Oklahoma University è una bellissima realtà che abbiamo qui a Arezzo, una parte della università con giovani che vengono promuoli da Oklahoma City e fanno delle esperienze insieme ai nostri studenti italiani. Noi qui al charity esponiamo in che modo diamo una mano ai ragazzi svantaggiati, a delle famiglie, a quello che stiamo facendo. E quindi i professori vengono per insegnare ai loro giovani che cosa stiamo facendo. Questa è una lezione questa mattina. I docenti dell'Oklahoma University hanno così potuto conoscere da vicino questa realtà, partendo dai charity shop fondamentali per sostenere i progetti della fondazione. L'Università dell'Oklahoma qui ad Arezzo da anni ormai collabora con la realtà di Mona Lisa in tutte le sue sfaccettature dall'azienda alla fondazione e anche quest'anno come spesso accade abbiamo un tiro uccinante per l'appunto che sta svolgendo uno stage qui presso Fondazione Mona Lisa per cui ecco adesso che in questo momento specifico sono venuti anche alcuni colleghi direttamente dagli Stati Uniti per capire come funziona ancora meglio la Università dell'Oklahoma qua ad Arezzo, quello che facciamo e tra l'altro appunto parlando proprio dei tirocini abbiamo colto l'occasione di oggi per fargliela vedere, fargliela toccare con mano. Ormai sono più di tre mesi che vengo quindi mi trovo bene, le volontarie sono brave. A far da sfondo all'incontro il charity shop della fondazione Mona Lisa di Arezzo che ospita un progetto di dopo scuola che si trova nel quartiere più popoloso e multietnico della città. I ragazzi multiculturali che seguono i corsi di dopo scuola qui dentro in questa realtà che è la realtà iniziale della Mona Lisa, la Mona Lisa 55 anni fa è nata in questo stabile stanno facendo i compiti e il preside si complimenta con loro perché facendo i compiti incominciano a parlare meglio l'italiano questo è una bella cosa, fra l'altro il fatto dei bambini e delle bambine noi ci teniamo e allora le famiglie che hanno più figli con ragazzi e ragazze vogliamo, pretendiamo, chiediamo di ottenere bambine e bambine se no non prendiamo il ragazzo a fare i compiti e questo l'abbiamo ottenuto. Nel fine settimana compresi tra il 19 novembre e il 7 gennaio la fondazione Tevenin con la partnership della città del Natale animerà con una serie di appuntamenti diversi Piazza San Domenico e le zone limitrofe con la proposta di concerti, spettacoli, magia, giochi, incontri con i bambini che si terranno anche tra la Basilica e lo spazio Buc di Palazzo Fossombroni e appunto proprio Casa Tevenin. L'apertura, il grand opening è previsto per domenica 19 novembre con tutti i protagonisti del progetto a partire dagli animatori del CSI. E torna anche quest'anno il calendario del Calcit Comitato Autonomo lotta contro i tumori sabato 18 novembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 il comitato sarà presente come sempre presso il portico dei Monte dei Paschi di Siena in Corso Italia appunto per poter vendere e ovviamente poi dare il ricavato in beneficenza lo storico calendario. Ad Arezzo dal prossimo lunedì apre lo spazio civico Circostanze dedicato ai giovani con particolare occhio di riguardo ai cosiddetti NIT. Noi attraverso i nostri centri giovani e i servizi sociali avremo il compito di segnalare nominativi di giovani dai 14 ai 35 anni che possono essere interessati al progetto. È una vera e propria chiamata alla partecipazione sociale rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni quella che arriva anche ad Arezzo grazie all'avvio del progetto Spazio Civico di Comunità capofila l'associazione Contraerea che è riuscita a figurare tra le vincitrici del bando gestito da Sport e Salute e ottenere un finanziamento pari a 100.000 euro. Si tratta di un progetto che prevede le attività sportive e sono quelle tipiche della Contraerea quindi le attività circensi che ormai ad Arezzo conosciamo bene grazie appunto all'attività decennale di questa associazione e anche alle attività non sportive orientate a combattere il disagio e anche a una formazione scuola-lavoro che possa portare specialmente i giovani in it e coloro che sono inattivi, che non studiano e non lavorano a divertirsi con queste attività a incrementare la propria forma fisica ma anche proprio a trovare uno sbocco lavorativo e occupazionale grazie a questo progetto. Ci crediamo molto siamo partner soddisfatti di Contraerea e questo bando appunto di Sport e Salute che ringraziamo siamo insieme alla provincia, ad Oxfam ad altre associazioni del terzo settore ancora una volta il territorio aretino dimostra che sa progettare sa intercettare i fondi questa volta il comune è un partner in altre occasioni il comune è stato finanziato direttamente però fare squadra pubblico e privato con il terzo settore ancora una volta ad Arezzo funziona ed è una strategia vincente. La sede aretina che prende il nome di circostanze e d'incontro invia a Camillo Golgi 38 il progetto durerà due anni e sarà aperta a chiunque voglia iscriversi dalla prossima settimana. Ed infine parliamo di sport prima vittoria di una squadra femminile targata a scuola basket Arezzo il traguardo è stato raggiunto dalle ragazze dell'Under 13 che al debutto nel campionato regionale di categoria sono riuscite a imporsi sulle coetanee della Florence basket di Firenze con il punteggio finale di 37 a 21 che ha permesso di registrare una data storica appunto per la società aretina. Questo risultato è frutto di un percorso impostato proprio dalla SBA a partire dal 2019 orientato alla costituzione appunto del settore giovanile in questo caso femminile. Ed infine chiudiamo con la notizia e il nostro personale in bocca al lupo di Luca Caneschi il collega che lascia la direzione della storica emittente Teletruria e assume l'incarico l'ho assunto proprio in queste ore di responsabile della comunicazione dell'ufficio stampa dell'Arezzo Calcio l'ho reso noto proprio la società con una nota ufficiale si tratta di una professionalità riconosciuta con grande esperienza sia di comunicazione che in specifico di calcio siamo felici che abbia sposato il nostro progetto affermano il presidente Guglielmo Manzo e l'amministratore delegato Sabatino Selvaggio crediamo sia un altro segnale del rapporto che stiamo creando con la città e siamo certi che insieme a lui e a tutte le altre componenti della società faremo cose importanti al collega Caneschi ovviamente come dicevamo i nostri auguri e il nostro in bocca al lupo per il nuovo incarico è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese attenzione arrivederci grazie per la cortese attenzione